Ciao a tutti i miei cari Itas italiani, un altro anno di Dota è finito con il suo carico di doni e di drama nazionali. Come dite? Volete sapere quali sono stati i migliori? Non disperate, perché i top 5 vi sto per mostrare. Number 5 I premi di Luca 2014 Lo so, tecnicamente non è di quest'anno, ma si è portato tutto il problema per tutto questo 2015. Appunto a Luca nel 2014 c'era stato un torneo di Dota a Cappannori a cui hanno partecipato molti team, tra cui gli Atrax e gli Easy Fix e forse anche i vecchi Impulsi. Il secondo premi erano 600€ in prodotti Sapphire, che dovevano andare agli Atrax secondo i classificati e in realtà non sono praticamente mai arrivati. Il tipo che doveva dare i premi è completamente sparito da Facebook. I primi post per la lamentela della mancanza dei premi erano a dicembre, poi sono arrivati a febbraio. E poi pian piano è diventato un meme per tutti gli altri tornei italiani che non hanno o non hanno dato soldi o che gli hanno dati molto molto in ritardo. Speriamo che nel 2016 i premi di Dota non siano più un problema come quest'anno. Number 4 Nova e il suo Flame Il 2015 è stato un anno impegnativo per il famosissimo top carry italiano. Forse a causa dei fuochi dell'adolescenza o per amori non ricambiati, Nova ha passato buona parte dell'anno a flammare e infastidire praticamente chiunque. Nemmeno la pazienza dei moderatori Dota 2 Italia è stata sufficiente. Bannato ed esiliato assieme a suoi diversi adepti ha sofferto la lontananza per molte settimane, finché è stato deciso di consentirli una chance di redenzione nella sanguinosa arena che è la mappa di Dota 2. Lo showmatch tra il team di Nova e gli Atrax è stato l'evento dell'anno per tutti gli Itas d'Italia. Il trofeo per il vincitore era la libertà. Morale della favola, anche i peggiori flamer vanno in paradiso ma solo se vincono a Dota. Lo so, ormai Lucca è un dramma assicurato e si va sul sicuro. Quest'anno però sembrava tutto indirizzato verso un ottimo evento con i presidenti Tita che pur essendo solo online avevano stupito tutti per l'organizzazione quasi impeccabile. Sfortunatamente un problema dopo l'altro ha impestato la lana. Gli Atrax hanno dato buca per impegni a Milano, i Next hanno dato buca per impegni con una festa di Halloween, la connessione non funzionava a dovere, Valve ci mette la sua epaccia e soprattutto Merlo aveva finito tutte le patatine. Almeno una buona notizia c'è, gli sponsor hanno premiato i vincitori. Yeah! Games Week di Milano Una lana alla fiera di Milano doveva essere l'evento che risollevava le sorti di Dota in Italia. Organizzata da niente popò di meno che Jack e Faceit, con sponsor del calibro di Asus e Inter e oltre 2000€ di Montepremi, aveva iniziato a puzzare già dai qualifier, con meno di una settimana a disposizione per iscriversi dopo l'annuncio e team invitati che non giocavano insieme da più di un anno. Saremmo potuti dimenticare tutti questi dettagli se la lana almeno fosse andata bene, ma è sempre stata la solita storia. Problemi con internet, problemi con i PC, organizzazione inesistente, team H1 all'ultimo momento, orari non rispettati, eccetera eccetera. Addirittura, nonostante Merlo fosse stato invitato a castare direttamente live, non sono riusciti a fargli avere l'hardware o la postazione adatta, con il risultato che non c'è stato nemmeno uno stream ufficiale dell'evento. GG well played, Jack. Number 1 Modena Play Primo posto per il Play di Modena Torneo partito molto bene, organizzato da Drake di Dota2.it e da Inogravity, una nascente multigaming. Alla finale LAN dovevano esserci tornei di Dota, StarCraft, LoL, Airstone, World of Tank, con partner del calibro di MSI, Corsair e E-Tech. Durante i qualifier però iniziano a succedere cose strane. Gli organizzatori pian piano spariscono tutti uno dopo l'altro. Il sito NoGravity con tutti gli orari, i contatti dei team, i form per inserire risultati, va misteriosamente offline. Gli altri tornei cominciano ad essere uno dopo l'altro annullati. Rimane solo Dota. Panico totale. Voci di corridoio dicono che ci sono problemi con i premi. Problemi legali. Nessuno lo sa per certo. Alla LAN i disastri continuano. I computer sono tutti portatili, diversi uno dall'altro, con risoluzioni di tutti i tipi. Alcuni crashano ogni ora, altri non superano i 30 fps. La posizione per i giocatori è sopra dei pannelli che non sono fissati e un paio di player cadono dalle sedie a metagame. Ciliegina sulla torta. A 5 metri di distanza c'è uno stand che pubblicizza una terribile web series. Con un proiettore e una cassa ad altissimo volume che continua a ripetere Grande Giove! L'AN di Super Mike verrà ricordata per decenni. Grazie a tutti per questo 2015 e buon anno!